Visto l'ottimo risultato della recensione del DJI Mavic Mini che trovate qui sopra, continuiamo a parlare di questo piccoletto. Oggi voglio vedere un po' più in dettaglio l'applicazione che DJI ha creato per il Mavic Mini, ovvero DJI Fly. Spostiamoci sullo schermo dello smartphone e vediamo come funziona. La prima cosa da fare è accendere la radio. Il telefono automaticamente riconoscerà che è collegato al radiocomando. Andiamo ad accendere anche il drone e attendiamo che si colleghino. Siamo all'interno dell'ufficio quindi non ci sarà un gran segnale GPS. L'applicazione ci permette sulla parte superiore di gestire le varie modalità di volo. In alto a sinistra c'è P Mode, anzi Mode P. Se clicchiamo passiamo in Mode S che è lo Sport Mode. Se clicchiamo di nuovo passiamo al Mode C che è il Cine Smooth Mode. Ricliccando ritorniamo al Position Mode che ci permette di volare con GPS attivo e con velocità limitata, come avevamo già detto nell'altro video dedicato alla recensione del Mavic Mini. Più a destra troviamo Take Off with Cotion, no GPS in questo caso. Se andiamo a cliccarci sopra avremo la possibilità di gestire innanzitutto l'altezza del ritorno a casa, variabile a seconda delle necessità. Un consiglio che vi do sempre è quello di dare un'occhiata attorno agli oggetti più alti che avete attorno per poter valutare quale sia l'altezza migliore per impostare il ritorno a casa. Più in basso troviamo la massima altezza che possiamo tranquillamente andare a fissare a 120 metri come da regolamento e la massima distanza anche questa a 500 metri come da regolamento. Storage Location in questo caso abbiamo una micro SD all'interno del drone con 114 giga disponibili su 119, 128 giga e qui sotto abbiamo anche il tempo rimanente di registrazione. Torniamo fuori cliccando da qualsiasi parte nello schermo, ci spostiamo ancora più a destra, sempre in alto dove c'è il simboletto del nostro wifi dove avremo veramente pochissime informazioni ovvero la batteria, la temperatura della batteria e i tempi di volo. Queste sono le uniche due informazioni che ci darà cliccando in questa zona qui. Quindi non avremo tutto il menu come sulla DJI GO molto più strutturato. In qualsiasi punto andremo a toccare, questo avverrà. Ci spostiamo ancora più a destra dove ci sono i classici quattro pallini che aprono il menu principale della DJI app e avremo cinque macro aree. Safety, Control, Camera, Transmission e About. Andiamo a vederli tutti singolarmente. Safety, la protezione che abbiamo appena visto di massima altezza, massima distanza, ritorno a casa con l'altezza definita e Update Home Point. Possiamo andare a dare il nostro Home Point, mentre il drone è in aria, in punti differenti. Per quanto riguarda la parte dei sensori abbiamo la calibrazione del Compass e la calibrazione dell'Imu. Vi consiglio caldamente di fare la calibrazione del Compass almeno la prima volta quando aprite la scatola del drone e iniziate ad utilizzarlo, mentre la calibrazione dell'Imu è un po' più delicata e vi consiglio di farla solo ed esclusivamente in luoghi tranquilli, quindi magari in studio, con il drone posizionato su un piano orizzontale in bolla senza doverlo mai toccare, con un po' più di attenzione. Se poi avrete piacere magari me lo scrivete qui sotto nei commenti e volete vedere come si fa una calibrazione corretta, andremo a darci un'occhiata in un video tutorial dedicato alla calibrazione del Compass per questo piccoletto. Proseguendo troviamo Remote Identification. Sono entrato dentro questo menu dove si parla di UUID, ovvero Unique User Identification Code. Ho guardato online perché non conoscevo questa parte del menu e devo dire che anche online non è così specificatamente definita come funziona. Fatto sta che di default sono attivi sia la Unique User Identification Code che la Identification and Flight Information. Sembra che tramite questa schermata sia possibile essere visibili anche a radar e comunque diciamo condividere la propria posizione anche con la possibilità di dare un nome identificativo con un massimo di 10 caratteri, vedete, e anche la possibilità di dare un Flight Information. Ad esempio sto volando a 30 metri di quota e sto fotografando gli alberi. E poi si dà l'Apply. Torniamo indietro e proseguiamo con gli altri menu. Un menu molto interessante è Find My Drone. L'ho trovato particolarmente carino perché nel momento in cui si vede dove si trova il drone, eccolo qua, posso decidere di farlo iniziare a flashare e bippare. E posso anche decidere di farlo smettere. Torniamo indietro. Advanced Settings. Qui abbiamo la gestione dell'emergenza, quindi il CNC che ci permette di andare a spegnere il drone anche per aria. E il Payload Mode che se viene abilitato ci permette di ridurre la velocità massima di spostamento del drone e la distanza massima. Tipo un Beginner Mode direi. Vado avanti, mi sposto sulla sezione Control dove abbiamo la possibilità di gestire i Flight Mode, quindi Cine Smooth piuttosto che Position o Sport che vi ho già anticipato prima. Units, se usiamo la metrica piuttosto che in metri o in chilometri o l'imperiale. Gimbal Advanced, molto importante perché abbiamo la possibilità di gestire il Pitch Speed, quindi la velocità di picchiata del pitch, di movimento del nostro gimbal. E anche la morbidezza con cui si muove. I miei parametri che utilizzo solitamente sono 20 per il Pitch Speed e 20 per il Pitch Smoothness, ma ognuno poi si trova come preferisce. Allo Upward Gimbal Rotation ci permette di andare, attivandolo, ad alzare il gimbal oltre i 90 gradi di inclinazione. Quindi guardiamo un po' più verso l'alto. Oppure Reset, se vogliamo andare a resettare tutti i parametri. Torniamo indietro. Gimbal Mode, Follow Mode o FPV Mode. Nel Follow Mode la camera rimarrà sempre stabile a prescindere. Il Follow Mode la camera si sposterà con lo spostamento del gimbal. E ovviamente anche la parte del gimbal calibration che può essere fatta manualmente o automaticamente. Adesso non la sto a fare perché il mio gimbal è calibrato correttamente. Stick Mode, quindi le modalità di volo, 1, 2, 3 piuttosto che customizzate. RC Calibration, se vogliamo andare a calibrare la radio. E Flight Tutorial, se vogliamo andare a vederci un po' di tutorial per come si va a volare. Se non l'avete mai seguito, datecelo un'occhiata perché magari può esservi utile. L'ultimo pulsante in basso è Connect to Aircraft che vi permette di collegarvi al Aircraft se avete, che ne so, un radiocomando che non è ancora stato connesso mai al drone stesso. Ci spostiamo in camera dove abbiamo la possibilità di gestire il size, quindi 4 terzi piuttosto che 16 noni. Il formato della camera, la formatazione della scheda e i settaggi avanzati che ci permettono di attivare o disattivare gli histogrammi, di attivare o disattivare l'exposure warning, di attivare le varie linee guida che ci aiutano dalla regola dei terzi al punto centrale piuttosto che alla griglia X. L'anti flicker che di solito è in automatico ma siamo in Italia quindi a 50 Hz va più che bene. I subtitles video sono le informazioni dei video all'interno di programmi come VLC, vi permetterà di vedere appunto i sottotitoli delle informazioni di registrazione del video. E la cache mentre andiamo a registrare che può essere gestita da 2, 4, 8, 16 giga o automatico. Ovviamente la cache viene cancellata nel momento in cui si raggiunge il massimo che abbiamo impostato. Ci spostiamo indietro nuovamente e sotto di nuovo abbiamo i reset camera parameters, quindi il reset di tutti i parametri che abbiamo impostato. E andiamo a vedere la trasmissione tanto chiacchierata di questo dronetto che lavora con 2, 4 e 5, 8 gigahertz. Possiamo gestirlo in modalità automatica come vedete in questo momento quindi 5, 8 gigahertz oppure possiamo andare a gestirlo in modalità manuale andando a scegliere noi il canale che vogliamo andare ad adoperare. Automatica, ok. Qui sotto vi mostra i canali stabili, i canali instabili e il canale corrente che viene utilizzato. Abbiamo quasi terminato praticamente tutto il menu principale delle impostazioni del drone dove possiamo vedere il nome del drone, il modello del drone, l'aircraft firmware quindi il 0100-0200, il primo aggiornamento che è stato effettuato per questo piccolo Mavic Mini. Quindi il FlySafe database piuttosto che l'RC firmware, il FlySafe database per le app, la versione dell'app. Quante volte è stata ricaricata la batteria? In realtà la batteria è già stata caricata una volta, invece qui non me lo viene a mostrare e poi vabbè i miei seriali del drone. Usciamo anche da questo menu sempre cliccando in qualsiasi punto. Vedete che sono dentro all'ufficio e continua ad avere un po' di problemi con il GPS, di fatto dice che non lo prende attualmente. Il Phantom all'interno dell'ufficio invece riesce a prendere il GPS. Poco più in basso, sempre sulla destra, abbiamo i menu delle videocamere. All'interno del menu, foto, video e quickshot che non è available in questo momento, all'interno del menu fotografico abbiamo la possibilità di gestire foto singole o foto con un intervallo di tempo che andremo a decidere noi facendo lo scroll. E facendo invece le foto singole abbiamo la possibilità qui in basso di andare a gestire in automatico oppure in manuale le nostre fotografie. Vediamo in manuale cosa ci permette di fare. Possiamo andare a ritoccare gli ISO. Possiamo andare a ritoccare lo shutter. Non possiamo andare a ritoccare l'esposizione. Ritorniamo in automatico e qui possiamo andare eventualmente a bloccare l'esposizione o andare a modificare le V a seconda delle nostre necessità. Vedete che posso andare a impostare l'esposizione e andare a bloccarla con questo altro pulsante. Adesso non posso più toccare l'esposizione perché l'ho bloccata con il blocco dell'esposizione. Vado a sbloccarla nuovamente e qui si andrà a gestire abbastanza intuitivamente. In basso qui a sinistra invece abbiamo le distanze del drone, le altezze e ovviamente la piccola mappa che cliccandoci sopra può essere aperta. E cliccando di nuovo sul monitor della camera può essere rimpicciolita. Cliccando qui in basso a sinistra possiamo andare a richiudere completamente la nostra mappa. Ritorniamo sul menu non fotografico ma questa volta videografico. E eccoci qui con il menu a 25 piuttosto che 30 frame al secondo a 2K e 7. Oppure a 1080 con 25, 30, 50 e 60 frame al secondo. Sfortunatamente vedete che qui enable to switch camera mode in current shooting mode. Quindi non è ancora possibile andare a modificare le impostazioni della camera se non l'esposizione EV oppure il blocco dell'esposizione qui di fianco. Se teniamo premuto il dito sul monitor possiamo utilizzare il dito come tilt del gimbal. Ultimo menu ovviamente è quello delle preview quindi la possibilità di andare a rivedere tutti i nostri video piuttosto che tutte le nostre fotografie oppure tutta la nostra libreria per completo. Qui a sinistra c'è la possibilità di decollare in automatico. Per decollare in automatico sarà necessario tenere premuto questo pulsante per il periodo necessario. Non lo sto tenere premuto per il periodo necessario perché altrimenti mi decolla e sono all'interno dell'ufficio vicino alla finestra. Ma basterà tenere premuto take off e lui andrà a decollare. Direi che vi ho detto tutto quello che riguarda il menu del DJI Mavic Mini attraverso l'applicazione DJI Fly che non avevamo ancora visto perché appunto è nuova. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Se vi è piaciuto ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e ricordatevi che settimanalmente usciranno un sacco di tutorial e di test con questo piccolo Mavic Mini fresco fresco uscito dalla scatola da pochi giorni. A me non resta che salutarvi, ricordatevi di guardarvi anche la recensione completa sul canale e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!